In questi mesi pensavo che fare il sindaco era qualcosa di molto complicato ma è ancora più duro di quello che potevo ipotizzare all'inizio del mio mandato perché non pensavo di trovare le casse vute e non pensavo che quanto potesse essere difficile governare cercando di cambiare senza soldi eppure noi non abbiamo rinunciato a innovare e a governare e quindi non a vivacchiare usando un termine che ho sentito anche qualche ora fa con il profilo nazionale non vogliamo vivacchiare, vogliamo governare, vogliamo innovare, vogliamo cambiare e rivoluzionare molte cose nella nostra città quindi il ringraziamento va alla dignità con cui i napoletani sinora hanno sopportato momenti difficili momenti complicati e anche innovazioni difficili ma che produrranno frutti importanti nei prossimi mesi e nei prossimi anni grazie 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 grazie